Sguardo anche al volley con la Valsa Group che dopo il successo all'esordio in Superlega contro Milano torna in campo domani a Verona alle ore 18 contro la squadra di Radonstein Stoic e oggi la presentazione del nuovo posto russo Maxime Shaposkov c'era per noi. Filippo Marelli. Un gigante buono, 2 metri e 20 di altezza, il sorriso timido di un ragazzo che ha appena compiuto 23 anni a cui tutti nell'ambiente Modena già vogliono bene. Maksim Shaposkov per tutti i Max è il nuovo posto russo della Valsa Group. Domenica all'esordio ha giocato un buon match con 20 punti, 50% in attacco, un eise e due muri. Ha anche commesso alcuni errori vistosi. La sensazione è che debba ancora non solo trovare l'intesa migliore con il palleggiatore Bruno ma che possa e debba ampliare il suo bagaglio di soluzioni tecniche. Sono molto contento di aver vinto la partita e sono molto contento anche per i nostri fans che ci danno una mano e ci incoraggiano molto. Sono molto soddisfatto da come sono stato accolto, dallo staff, dalla squadra. Mi sento tranquillo, mi sento pronto e diciamo che vuole andare avanti così. Il popolo italiano è molto caloroso, piace tanto quando lui gioca, come loro reagiscono alla partita. Sono molto contento e proprio mi sento coccolato da loro. Domani, sabato, la Valsa Group gioca a Verona l'anticipo della seconda giornata di Superlega contro la Rana che al debutto ha vinto 3-1 a Taranto. Un match complesso in primis per il valore della squadra di coach Stoice. Verona sembra già solida, potente in attacco con Mozic, Zavorono che con l'opposto iraniano Amin. Shapozkova è l'ex di turno, per lui quella Verona l'anno scorso non è stata solo la prima stagione in Italia ma è stata anche l'occasione per farsi conoscere al grande pubblico. E oggi Max ha le idee chiare sul suo futuro sportivo. Io punto al massimo, vorrei diventare il migliore perché l'anno scorso ho saltato qualche partita per il mio stato di salute, invece quest'anno cerco di essere presente sempre, dare il massimo e vorrei diventare il migliore nella mia tipologia del gioco. Magari vi può sembrare che sono molto ambizioso, però è così, sto pianificando di fare questo.